Musica Bentornati a una nuova edizione di TG Chrome Falchi al cimitero civico di Cremona per combattere i piccioni Una vera animal mania, quella che da qualche settimana sta contagiando anche altri amministratori comunali Vediamo Falchi al cimitero di Cremona per tenere a bada i piccioni e volpi ingaggiate nella lotta alle nutrie La politica amministrativa sembra piegarsi alla legge di natura Sono infatti queste le misure adottate da alcuni amministratori cremonesi Per riuscire a dare una risposta efficace ad alcuni problemi che da tempo attanagliano città e campagna Centri abitati e periferie E così il comune di Cremona ha ingaggiato i falchi per riuscire a contenere i tanti Troppi piccioni che al cimitero civico stanno creando danni a tombe e monumenti Non sarà una caccia cruenta ma naturale La sola presenza dei rapaci sarà sufficiente affinché gli uccelli indesiderati cambino zona e volino altrove Ci vorrà almeno in un paio di mesi essi curano gli esperti per vedere dei risultati A Drizzone invece si pensa ad allearsi con le volpi contro il nemico numero uno degli agricoltori Le nutrie I canidi sarebbero ottimi spazzini e grazie al loro stomaco di roccia Si ciberebbero anche delle carcasse dei riuditori Una soluzione di certo più appetibile è il caso di dirlo rispetto a quella lanciata da un altro amministratore Il sindaco di Gerre De Caprioli Che al grido dell'hashtag A Gerre mangiamo di tutto Invece ha invitato ad inserire nel menù di sagre ristoranti piatti a base di carne di nutria Furto al bar a io svaliggiato nella notte sentiamo Mauro Faverzano Si sono serviti probabilmente di minori per svaliggiare questa notte la Yo Café in via Platina in pieno centro a Cremona Il varco aperto tra le pur resistenti inferiate di Velte è davvero piccolo E solo una persona di piccole dimensioni può passarvi Ma sentiamo cosa sia successo esattamente Niente è successo che stamane al solito orario d'apertura Quando torno alle sette non sono venuto Sono andato a poggiare il mio giubino E ho trovato questa sorpresa Delle macchinette scassate E anche la cassa Poi sono venuto nel banco E mi sono accorto che anche la cassa Scassata E ho portato via Un centinaio di euro forse Un altro pezzo dell'area lungo l'asta del Po recuperata Presentata a Cremona Arena Il progetto di recupero dei campi da tennis Accanto alle piscine comunali Lucilla Granata Un'opportunità per tornare a fare sport in una struttura bella Moderna e soprattutto pubblica E un altro pezzo della splendida area verde Della zona Po che viene riqualificata e restituita alla cittadinanza È stata svelata ieri Cremona Arena La società di Enrico Pighi e Laura Golarsa Il progetto è nato circa un anno fa Quando costretto dalle esigenze Ho visto questi campi isolati E ho fatto una domanda in comune Per poter vedere se si potevano sistemare Nel corso del tempo Poi cercando Mentre il progetto si sviluppava E era un progetto onestamente un po' più modesto Ho trovato Grazie a un amico Laura A cui avevo chiesto Se mi dava un maestro Per seguire la scuola tennis Che chiaramente non avrei potuto seguire Gestendo tutto il centro È una struttura multisport Perché avremo tre campi da beach E ovviamente beach volley e beach tennis E due campi da paddle E tre campi da tennis in terra rossa Ma soprattutto Credo che è importante sottolineare Che questo progetto è aperto a tutti Alla libera utenza Non è necessario essere soci di un club Ma sono tutti ben accetti Anzi speriamo di avervi numerosi E di aprire Dando l'opportunità Veramente A tutti i cittadini di Cremona I lavori inizieranno Entro la fine del mese I campi aperti a luglio Di fianco alla piscina comunale Poi affidati dal comune Attraverso una convenzione A questo sodalizio Nato tra pigli E appunto Laura Golarsa Ex campionessa di tennis È davvero un bel progetto Che si propone Tra l'altro Di divulgare tennis e sport Attraverso corsi Per tutti i livelli E le disponibilità Cremona vive Viva Cremona Da oggi al via Il mercato europeo Questa mattina Il taglio del nastro Per la manifestazione Eno gastronomica Targata Confesercenti 52 operatori 22 nazioni presenti Europee Non solo Questi numeri Della nuova edizione Del mercato europeo Manifestazione Eno gastronomica Targata Anva nazionale Confesercenti Della Lombardia orientale Questa mattina In corso Garibaldi Il taglio del nastro Alla presenza Dell'assessore Del comune di Cremona Barbara Manfredini E il direttore Della sede di Cremona Giorgio Bonoli Accanto agli organizzatori Che anche quest'anno Sono riusciti a portare In città Tutto il buono Dall'Europa E dal mondo Tra cibo e dolce Banchi con articoli Artigianali Diverse le novità A cominciare dagli stand Provenienti dal Vietnam E dall'Uruguay Nazionalità presenti Per la prima volta Sotto il Torrazzo Per l'Italia La New Entry È invece rappresentata Dalla Sardegna Con i suoi prodotti tipici Poi tante conferme La classica birra tedesca Austriaca Irlandese Ceca Allo strudere l'Austria Con i brezel E i sapori piccanti Dal Messico Ma anche tanto Mediterraneo Con Grecia Spagna Naturalmente Italia Farla da padrone Tempo permettendo Una tre giorni Da leccarsi baffi Le notizie dall'Italia La polizia ha eseguito Un'ordinanza di custodia Cautelare in carcere Nei confronti di un gruppo Di Ultras Della Catania Che il 29 aprile scorso Durante la trasferta Matera Ha aggredito in ermi Cittadini A imbarcaderi di Messina E dato fuoco Con un fumogeno Dopo averla inseguita Sull'autostrada A2 Un'auto In cui occupanti Erano stati Erroneamente Scambiati Per tifosi Del Siracusa Che sono stati Anche picchiati Rapinati Vicino alla stazione Ferroviaria Di Lamezia Terme L'assalto Degli Ultras E' stato interrotto Dall'intervento Di un operatore Della Polfer O da altri puliziotti Giunti immediatamente In auto I reati ipotizzati Nei confronti Dei indagati Sono a vario titolo Rapina impropria Danneggiamento gravato Incendio Lesioni aggravate Violenza privata Tentato omicidio Utilizzo di oggetti Atti ad offendere In occasione Di manifestazioni sportive Resistenza A pubblico ufficiale Detenzione abusiva Di materiale Esplodente Politica si è Conclusa con Un'approvazione All'unità Della relazione Del segretario Reggente Maurizio Martina La direzione Del partito Democratico Che gli ha dato Un mandato pieno Fino all'Assemblea Nazionale E quindi anche L'invito a continuare A guidare il partito Nell'interlocuzione Con il Quirinale A partire Dalle consultazioni Di lunedì prossimo Consultazioni Che inizieranno Le 10 Con la delegazione Del Movimento 5 Stelle Seguirà quella Del centrodestra Che si presenterà Al Colle In un'unica delegazione Poi di seguito Le delegazioni Degli altri partiti Chiusura in serata Con i Presidenti Di Camera E Senato Intanto Il leader Della Lega Matteo Salvini È pronto a prendere Un pre-incarico Dal Presidente La principessa Ereditaria Vittoria di Svezza Sarebbe stata Infatti Molestata Da Jean-Claude Arnault Fotografo Franco-svedese Al centro Del caso Il Ministro Degli Esteri Iraniano Mamed Javar Safir Ha affermato In un intervento Video Che l'Iran Non rinegozionà O integrerà L'accordo nucleare Internazionale Sottoscritto Nel 2015 Safir Ha risposto così Rivedendo La posizione Iraniana Degli ultimi giorni Alle minacce Degli Americani Di ritirarsi Dall'accordo nucleare La decisione Di Donald Trump È attesa Entro il 12 maggio E siamo Allo sport La finale Di Europa League Atletico Madrid Marsiglia Gli spagnoli Si sono qualificati Alla finale Del 16 maggio A Lione Battendo L'Arsenal Per 1-0 Nella semifinale Di ritorno Giocata All'Uanda Metropolitan Di Madrid La 101esima Edizione Del Giro D'Italia Di ciclismo È partita Con la disputa Di un cronometro Individuali Corridori Andranno a caccia Della prima Maglia rosa Fra le strade Di Gerusalemme Partendo da Ishaq Kariv Street E arrivando A Slomo Ha Malek Street Dopo una prova Lunga Solo 9,7 km Una folle Corsa Contro il tempo Nella città Metà di Pellegrinaggio Per ebrei Cristiani Musulmani A pochi metri Dal santo Sepolcro Al muro del Pianto E dalla Cupola Della roccia Questa per noi Era l'ultima notizia L'appuntamento Con TG Chrome Torna lunedì Mentre nel weekend Vi ricordiamo Le nostre good news A cura di Mauro Faverzani Buona serata a tutti Buona serata a tutti Buona serata a tutti Buona serata a tutti Buona serata a tutti